Vabbè ok abbiamo sbloccato l'Ulchessa ragazzi ovviamente questa partita a questo punto la continuiamo e vediamo un po' cosa riusciamo a combinare Oggi ragazzi è il turno dell'Ulchessa Hashtag Ulchessa sotto nei commenti La chiameremo così ragazzi perché She Hulk Boh non mi piace, non mi piace ragazzini la andremo a chiamare Ulchessa e la sbloccheremo proprio oggi L'altro giorno siamo andati a sbloccare la skin finale di Iron Man quindi Iron Man vero e proprio con l'armatura Abbiamo anche tra l'altro già sbloccato ovviamente Jennifer Walters Argentea perché si sblocca a livello 110 e tra l'altro ci ho fatto il video ieri o l'altro giorno non ricordo come skin più sexy del gioco Molto provocante andatevi a vedere quel video per capire di cosa sto parlando Ma comunque oggi siamo qui per completare le missioni per sbloccare appunto Ulchessa E la prima missione che dobbiamo fare è visitare l'ufficio di Jennifer Walters Come Jennifer Walters va bene e sta a corso commercio Già lo so perché le sfide le ha fatte prima la mia ragazza e mi ha detto dove sono le cose E vabbè ragazzi sono un po' avvantaggiato per oggi Mi raccomando ragazzuoli vi ricordo di utilizzare il mio codice supporta un creatore GG YT tutto grande tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Anche perché se in questi giorni vedo che molta gente in più inizia a utilizzare il mio codice creatore Andrò a tingermi i capelli di un colore rosso acceso come quello della rarità della Marvel E ovviamente poi andrò a fare i video senza cappello Quindi mi raccomando ragazzuoli codice supporta un creatore GG YT tutto grande tutto attaccato E inseriscilo anche tu anche tu lo devi inserire perché magari molti di voi pensano Sì vabbè ma tanto lo inseriscono gli altri No raga mi raccomando inseritelo anche voi Detto questo raga andiamo a visitare l'ufficio di Jennifer Walters Mi raccomando lasciate un bel mi piace perché a 20.000 like continueremo questa serie Andremo a sbloccare la skin finale di un'altra skin del pass Iscrivetevi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi e tutte le prossime live Quindi mi raccomando ragazzi controllate di essere iscritti se non lo siete Iscrivetevi e niente andiamo a completare questa bella missione Ok ragazzi direzione corso commercio come vi stavo dicendo Ho pingato esattamente quello che è l'ufficio di Jennifer Walters Ovviamente prendete questi video anche come tra virgolette aiuto per le vostre missioni Se non avete ancora fatto queste missioni o se appunto non sapete come fare E quindi raga niente ci basterà entrare nel suo ufficio fondamentalmente Niente di che Tra le altre cose sono sceso anche abbastanza a basso quindi mi sape ci toccherà fare un pezzo a piedi Spero che durante questo pezzo a piedi non ci uccida nessuno perché altrimenti è un problema Ah no vabbè dai ragazzi pensavo peggio Comunque raga appunto Jennifer Walters è un avvocato Ecco qui abbiamo visitato il suo ufficio Ha proprio i classici indumenti di un'avvocatessa Di un'avvocato donna insomma Però poi oggi quando l'andremo a sbloccare nella sua versione finale E diciamo che lì so dolori eh so dolori Proprio una lottatrice di lotta libera Incredibilmente dunque ovviamente andiamo a suicidarci per continuare le missioni Ne dobbiamo fare altre due Ok ragazzi quest'altra missione potrebbe essere un po' più complicata O meglio potrebbe lavorerci più partite Perché dobbiamo eliminare tre scagnozzi del dottor Doom Quindi raga il problema non sono tanto gli scagnozzi Quanto il fatto che praticamente mezza lobby viene lì al dominio di Doom Ma vediamo un po' cosa riusciamo a fare Niente qua non c'era il coso Qui non c'era No 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 Famas Ok 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 Uno scagnozzi è stato fatto Uno fatto Perfetto Vediamo se ce ne sono altri Ah io proverei ad andare direttamente qui sotto No c'è già uno No c'era già un altro pure qui Ma non ho parole Tra l'altro questo era rimasto con sé di vita No ma come è già trovato il combat Ah no lo scagnozzo il combat Non ho parole Non ho parole Non ho parole No vabbè ragazzi La missione più difficile che abbia mai fatto No mi ha preso No mi ha preso No 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 L'ho atterrato adesso non me lo ruba nessuno eh Muori Ok No chi mi spara Non lo so Qui c'è ancora quello col combat No Si 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 raga Si raga No no adesso tu muori proprio instant Mamma mia raga Ci ho messo 6-7 partite per fare questa sfida Mamma mia non avete idea Ok raga l'ultima sfida Di Jennifer Walters Usa un emoto come Jennifer Walters Dopo aver distrutto Ok Vasi Dopo aver distrutto vasi Ma un po' più specifici Ma leggermente più specifici no eh La vediamo Ok me ne segna 3 addirittura Dopo aver distrutto Ma che li devo distruggere tutti e 3 Ma che c... Ma perché non le spiegate meglio queste sfide Eh boh vabbè Proviamo ad andare qui Non lo so Eh ok Va bene Proviamo ad andare in uno di quei punti Ok Iniziamo a cercare questi vasi Va bene Cioè che poi distruggi i vasi Ma nella sfida in realtà ne devo fare solo uno Allora perché Mi parli al plurale Cioè li devo distruggere tutti e 3 Non ho capito Mi devo anche sbrigare Perché la safe non è così lontana Ma Io sono proprio vicino vicino A quando inizio a spawnare Allora Questo è un vaso Ok però no Sicuramente non era quello Va bene Vabbè ma non credo siano Uh guarda un po' Questi? Ah ok Allora sono molto riconoscibili Boom Tiè vai Pieno dei vasi qua dentro Ah ok Allora va bene Allora può essere un po' più facile Va bene Vediamo Ah no Ok va bene Certo torna normale E si arrabbia Va bene Ok spacca tutto Perfetto Vabbè ok Abbiamo sbloccato l'ulchessa Ragazzi Ovviamente questa partita A questo punto la continuiamo E vediamo un po' Se riusciamo a combinare Qui danno anche parecchio mattone Questi vasi eh Danno parecchio 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 mattone Quindi pure se non dovete fare la sfida Ragazzi io per farmare mattone Vi consiglio di venire qui Va bene Ah poi ce n'è anche uno qui Raga quindi non lo so Magari ve lo prende anche quello Boh io ve lo faccio vedere per Per curiosità o per informazione Sappiate che ce n'è uno anche qui Non so se lo prende questo eh Però credo di sì È uguale a quello Penso di sì Qui c'è un altro Là ce ne sono altri Beh vabbè regà dai Ce ne stanno un bel po' Ora non so se anche negli altri punti Però diciamo che qui sono abbastanza facili da trovare insomma Anche perché se contate che ne basta anche soltanto uno Cioè ne dovete distruggere anche solo uno Va bene No perché da come aveva spiegato la missione Sembrava impossibile Ragazzi cioè distruggi i vasi Zone puntate lì a caso Perché lo sapete non è proprio così preciso Il punto che vi mette lì in mappa Eh c'era un po' rimasto male La safe non è molto vicina ragazzi Quindi io probabilmente prenderò una macchina Percorrerò la strada E provo ad andare il più veloce possibile Raga mi devo sbrigare da morire Ma volevo troppo vedere Ah dentro il cavo niente Volevo vedere dentro il cavo Ero troppo curioso Ho preparato una macchina proprio qui davanti Per scappare La prendo e non è la strada dritta per dritta Però seguendo la strada con la macchina che va abbastanza veloce Ce la dovremmo fare ragazzi Oh no Non mi fermerò Eh niente Non mi fermerò What? What? Eh vabbè Sì c'abbiamo Tfew Buga Tfew Ma solo io sto notando molti più traiardini in questa season Eh vabbè Solo io sto notando molti più traiardini in questa season No perché io ragazzi ne sto trovando ad ogni partita un bel po' No ha preso la macchina Mi sta continuando a cercare qui Mi ha visto Addio ragazzi Beh vabbè Cioè boh vabbè Non lo so ma Cioè ma che c'ha il turbo C'ha il turbo C'ha C'ha il turbo Ma che cacchio Eh vabbè ragazzi Di che stiamo parlando Raga Cioè era proprio su un altro livello Era troppo forte Questo qui era veramente troppo 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 forte Non ce l'avrei proprio mai fatta nella vita Ho provato a scappare ma Nemmeno quello è servito Vabbè 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 La cosa importante È che abbiamo sbloccato il risveglio di Jennifer Walters Quindi in poche parole è come aver sbloccato l'Ulchessa Mi raccomando Hashtag Ulchessa sotto nei commenti Vi ricordo il codice supporto a un creatore GG YT Tutto grande Tutto attaccato nei negozi oggetti Mi raccomando mettetelo tutti quanti Mettilo anche tu Che magari pensi lo mettano gli altri Così tanto per Quindi raga Così poi mi andrò a tingere capelli Del rosso Bello acceso Della rarità della Marvel Mi raccomando raga 20.000 mi piace I prossimi episodi Iscrivetevi al canale se non questo è fatto Per me è tutto Ci vediamo domani Un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Grazie a tutti.